Buonasera a tutti da Cristina Maninpasta. Non mi conoscete però sono la sorella di una persona a voi molto cara. Sono nella mia location, praticamente casa mia. Ho avuto l'onore di invitare questa persona a voi conosciuta, però ci arriveremo piano piano. Iniziamo prima dal compagno, dal marito, poi arriverà lei. E quindi, vabbè, sicuramente avrete già capito, però volevo dare un po' di ironia. Finalmente mi faccio conoscere. Adesso invito la persona a lei e a me cara, che è un aggancio di collegamento. Prego! Con voi l'onore, Davide Maninpasta. Ciao, ciao! E che dirvi? Di qualcosa a tu? Benvenuto nella mia location. A me non mi conoscono ancora. No, no! Ancora non mi conoscono. Adesso facciamo venire la vera interessata. Magari sì, magari se no ci giudica, non voglio essere disegnata male. Vabbè, facciamola venire, dai. E buonasera a tutti da Diziano Maninpasta. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Vi faccio conoscere mia sorella. Abbiamo fatto tutta questa cosa per creare qualcosa di ironico, ecco, e farvi vedere pure il meraviglioso giardino di mia sorella. E oggi, stasera, siamo ospiti. Ci tengo al gallo, Lorena. Al gallo, fai vedere il gallo, Lorena. Non trovo il gallo, Lorena. Come avete visto, siamo tutti uguali. In questa casa sono tutti ironici. Allora, Cristina, parla un po' di te, dai. Eh, bene. Che dire? Lei con l'ultimo disturbo. Davide se ne va. Che dire? Che dire? Quello che vuoi. Allora, dai, non ti chiedo gli anni, non so se ti piace dire gli anni. No, passiamo. No, no, non è un problema. Anche perché sembra giovane, mia sorella lo sapeva. Gli anni sono 38, quelli sono, quelli mi tengo, quelli mi godo. E quelli sono, si vedono, è una bella donna. Ve l'ho sempre detto che mia sorella è bella, ha i bellissimi capelli. Avevo bisogno di complimenti questa sera. Ebbè, ognuno di noi è bello avere dei complimenti. E che dire? Io sono contenta finalmente e ce l'abbiamo fatta. Lei si vergognava, però giustamente non è sempre... Non faccio un lavoro di video, di riprese e di quant'altro. Per una sorella si fa un po' di sacrificio, no? Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. E stasera stiamo a cena di mia sorella con mio cognato. Mia cognato ancora si vergogna, ma ce la faremo anche con mio cognato, me lo ve lo assicuro. Ti vi ricordate, Davide, quanto tempo ci abbiamo messo? Ah, arriverà, arriverà. Allora, mia sorella naturalmente è fidanzata con mio cognato. Questa è la loro bellissima casa, solo che è futura. Sì, se la stanno costruendo con tanta passione e tanto amore. E se Dio vuole, un giorno ci sarà il loro matrimonio. Alice, tra l'altro, prenderà loro le fedi. È una cosa che dice sempre da quando stavo nella mia pancia. Quindi, e che dire, che dire, che dire, Cristina? Io sono contenta. Io gusto le ricette di Tiziana Madinpasta, non ho molto, ho un buonissimo contatto con la cucina. Mi piace mangiare. Ma infatti lo dico sempre, mia sorella gli piace mangiare, però non è come me la passione che... Faccio quello che devo, faccio quello che posso. Lei, con Penso, fa tante altre cose che... La passione con la più maiuscola ce l'ho più per la casa, che per la cucina. Quindi, avete conosciuto mia sorella, sono contenta, orgogliosa. Intanto ci siamo fatto un... Fa vedere un attimo un piccolo spritz. Vabbè, abbiamo già consumato però. Eh, per... Ci rifaremo ancora. Rallegrare la serata. Ci siamo caricate, praticamente. Ecco, sono contenta. E quindi, quando vedete Cristiana Mazzotta, sulla live, in particolare, è lei. Sono contenta che mi ha fatto veramente... Che l'entrano puoi riprendere, non è? Eh, sì, perché c'è la luce della... No, cosa ci prende? Del flash. No, magari... Poi c'è un provino o qualcosa? Posso di lavoro o qualcosa? Ecco, avete visto? L'umorismo c'è in questa casa, non cambia nulla. Non l'hai fatto al caso. Sfettiamo ogni cosa. Ah, perfetto. E comunque, mi raccomando, seguite tutte le ricette, perché ci saranno delle belle sorprese su questo schermo in questi giorni. Veramente, vi aggiornerò di oggi. Dobbiamo sapere di più. Di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più. Un'altra presentazione. Basta, punto. Un'altra presentazione importante. Top secret. Bella. Sì, preferisco pescare la manzia. Adesso stare un po' sulle mie e poi vi dirò tutto. Io sono contenta e felice. Allora, poi, un giorno quando mio cognato verrà al mondo, verrà, come devo dire, non si vergognerà. Vedete, mia sorella ce l'ha fatta. Questi non sono stati fatti da iniziare la mani in pasta, ma noi gradiamo volentieri lo stesso. Accompagnati da uno spritz, che è il mio cognato che mi offriranno. Arriva, arriva. Vedi che poi non è tanto difficile stare dietro la telecamera. No, ma dai. Tanto non vedo nessuno. Tu sembra che sia stata sempre così. Io non vedo nessuno. Poi al tempo mi renderò conto. Però, al momento non vedo nessuno. C'è Davide che sta smanuccando le patatine dietro a Lorena. Il mio amore mi offre da bere. E pure io, Paolo. Gli stuzzichini ce l'ho. Lo spritz ce l'ho. L'amore c'è. L'amore c'è. No, non ci sono. Non ci manca niente. Evviva la vita. Siamo contenti così. E poi, come vi dico sempre. Siate felici. Non dimenticate di essere felici. E devo fare l'assaggino. Devo fare l'assaggino. Dai, mantengo io. Devo fare l'assaggino. Dai, facciamo l'assaggino. Che buono. Il peperoncino non c'è. No, bello sta cosa. Che vi devo dire? Mamma mia, che buono. Che vi devo dire? Mamma, come buono. Aspetta, ma io devo assaggiare ancora. Chiamatela a fare l'attrice. Lorena, riprendi dopo. Ma state vedendo mia sorella. Che bontà. Che bontà. Mo' mi son messa pure seduta. Quando faccio degli assaggi mi metto seduta. Perché proprio per la devo gustare alla grande. La perderemo. Prima o poi la perderemo. No, no, no. Bugia. Purtroppo rimane così come per sempre. Niente, mai, mai mi perderete, mai. Perché con loro ho iniziato, Cristina. E con loro resterò sempre. Perché tutto, come lo dico sempre, grazie alla spalla loro. Io vado avanti ai consigli. Perché pure i consigli fanno bene. Cresci. Sì, si cresce. Allora. Dunque. Che dici? Chiudiamo? Devi dire qualcos'altro tu? Ci vediamo alla prossima. Tanto mo' ha rotto il ghiaccio. Sicuramente. Romperemo il ghiaccio. Mo' facciamo un bel brindisi. E poi salutiamo. E poi ci vediamo alla prossima. Certo. Sempre con la staggina. Io non lo faccio perché stiamo a mettere la ciotola. Ok. Un saluto. Buona serata. Da Cristina Malimpasta. E da Tiziana Malimpasta. Alla prossima. Ricordate di essere felici. Ciao. Ogni forma a sé. Ciao. Ciao. Ciao.